Anzi, vi stimoliamo. Se ce ne fossero altri che partono dal nostro interno le donne, non dobbiamo avere preoccupi. Nel marcio vanno battitori, senza pietà e senza paura. E però abbiamo la sensazione che il fenomeno non riguardi solo noi, non tanto sul piano della corretezza e della realistà, quanto sul piano dell'improvvisa pioggia di denaro che ha riguardato il mondo dell'antiracca negli ultimi 45 anni. Io non ve le consegno perché sennò sarebbe una certa polemica nei confronti di altri e noi non andiamo alla polemica nella politica. Invitiamo tutti però un ripensamento. Quando negli ultimi anni sono stati spesi milioni, milioni, milioni di euro, parliamo di oltre 10 milioni di euro in un solo PON, 13 per la precisione, più altra a livello regionale, più altra a livello comune e provincia, più da qui dove comincia a non arrivare.